Allora, siamo qui con Silvia Del Zoppo, alla uscita della nuova edizione di Nonno Furio, Torna dalla guerra, un volume che l'Istituto ha pubblicato recentemente, proprio in occasione del giorno della memoria, perché la guerra è ovviamente lo scenario entro il quale si consumano le tragedie di deportati, internati, le prigionie dei militari italiani. Allora, Silvia, chi è Nonno Furio e perché hai pensato di scrivere questo libro? Nonno Furio in realtà è mio papà e ho pensato di scrivere questo libro perché nella mia infanzia il mio papà mi raccontava le sue vicende, la sua vita che è stata una vita abbastanza difficile e che è iniziata con il rimanere orfano della mamma a due anni e che è proseguita poi durante il periodo del fascismo. Mio papà era nato nel 1925 e è stato chiamato militare nel 1944 con la cartolina precetto. Lui non si è presentato ed è stato un renitente alla leva. Lui mi raccontava che in seguito a questa sua scelta fu preso prigioniero e inviato in un campo di concentramento in Germania e poi in un campo di lavoro. Io ho pensato così di rendere queste sue vicissitudini, renderle da conoscere anche per i ragazzi. In quanto è importante che appunto la memoria sia portata avanti, anche negli aspetti meno conosciuti, anche le vicende personali possono appunto incrementare quel pochino della storia generale. Quindi ho pensato di scrivere questo racconto. Il libro in effetti è nato nel 2015 e adesso grazie a voi appunto vede questa nuova edizione arricchita anche da alcuni documenti che ho trovato nel frattempo. Ecco, noi nella nuova copertina, che poi sostanzialmente è quella della prima edizione, però abbiamo aggiunto alcune cose, così la possiamo vedere. Vedete che oltre a un aereo che ha un'elica che sembra avere dei petali, ha anche un carro armato che spara dei fiori. Perché questo libro esce in un momento in cui purtroppo quella pace di cui per quasi 80 anni il mondo occidentale, l'Europa, ha goduto, sembra essere messa in forte discussione non all'interno dell'Europa ma immediatamente fuori, cioè sulla porta possiamo dire. Quindi direi che c'è anche un bel messaggio che può venire dalla memoria se i ragazzi riescono a caricarselo sulle spalle perché è il messaggio della pace. Dalla guerra, dall'esperienza della guerra deve scaturire una lezione di pace. Questa era la speranza di quei giovani che appunto hanno vissuto il ventennio. Finita la guerra speravano che la loro esperienza fosse d'esempio e che queste brutture non succedessero più. Purtroppo proprio in questi giorni in cui si parla di 27 gennaio e quindi del ricordo di quello che era successo durante la guerra, oltre alle leggi razziali ma comunque anche le persecuzioni delle persone, purtroppo oggigiorno con le guerre che ci sono in tutto il mondo, le meno conosciute in realtà sono una sessantina le guerre che si stanno combattendo nel mondo. Quelle che si conoscono di più sono quelle dell'Ucraina che appunto è scoppiata due anni fa e quella della Palestina in questo momento, Palestina-Israele. Però quelle persone speravano di non trovarsi mai più in una situazione del genere e si auguravano proprio che si facesse tesoro di questa esperienza loro facendola conoscere. Infatti nel libro praticamente il libro va avanti mettendo in parallelo diciamo la storia vera vissuta da tutti e la storia invece di Nonno Furio appunto altrettanto vera ma personale e vanno avanti periodi storici e biografici gradatamente. E quindi mio papà appunto che ha vissuto la guerra prima come lavoratore in Italia a Biella e poi come invece lavoratore coatto ha subito su se stesso quei bombardamenti, quelle brutture appunto della guerra che mai avrebbe pensato di rivedere oggi. Invece purtroppo ci siamo. Quando si vedono al telegiornale quei bombardamenti bisogna pensare che quando noi nel 1998-99 siamo andati io e mio papà appunto a visitare la Germania e nei musei, nei campi di concentramento ma anche nei musei o nelle chiese che erano state bombardate si vedevano queste immagini dei bombardamenti sulle città e oggi purtroppo le vediamo tutti i giorni in televisione. Senti, quando hai scritto questo libro hai pensato di rivolgerti come destinatari proprio al pubblico più giovane in base anche alla tua esperienza di lavoro. Ecco, ma lo consiglieresti anche al pubblico adulto questo libro? Devo dire che i complimenti più belli che ho ricevuto sia con nonno Furio che con nonno Luciana che avevate anche pubblicato voi appunto, ripubblicato voi, sono stati quelli degli adulti che li hanno letti e che mi hanno detto che erano informazioni che purtroppo loro non conoscevano perché la storia del Novecento si conosce poco. Proprio stamattina in una manifestazione che abbiamo seguito si diceva che il Novecento è poco conosciuto nelle scuole che bisognerebbe dare più spazio a quello ma appunto dalle elementari alle superiori e quando invece nell'elementario oggigiorno si passa il tempo a parlare dei preistorici, dei primitivi, degli animali preistorici che una volta piacevano molto ai bambini ma poi ho visto che nella mia esperienza a un certo punto dopo mesi in cui si parla del Tisannosaurus piuttosto che del Neandertal eccetera stancano i ragazzi e poi invece quando si va a parlare di queste ricorrenze non le conoscono, non sanno quella storia e così non la sanno le persone adulte e leggendo questi libri che appunto il complimento che mi hanno fatto è che sono scritti in modo semplice ma raccontano tutto un periodo di storia che è quello del ventennio senza prendere posizioni politiche perché io devo dire anche la verità ho cercato di essere abbastanza obiettiva nella scrittura perché lo storico non deve prendere una posizione ma deve far conoscere i fatti e quindi ho cercato di attenermi ai fatti raccontando quella appunto che era stata l'esperienza di quei giovani di quell'epoca e quindi quando un adulto legge queste vicende dice ah sì magari anche il mio papà aveva raccontato qualcosa e così tornano a ricordare eventi successi in famiglia e eventi comunque successi nell'Italia sì perché storie come quella di Nonno Furio sono probabilmente nascoste in tante soffitte magari dimenticate ma meriterebbero di essere riportate alla luce proprio perché c'è bisogno di incardinare la conoscenza storica sulle esperienze vissute dalle persone altrimenti c'è il rischio che la storia diventi qualcosa di astratto una disciplina che non si vive e la storia invece per essere conosciuta e generare consapevolezza che è il suo scopo deve proporre proprio degli esempi umani io credo che attraverso la tua produzione Nonno Furio ma anche l'hai ricordato prima Nonna Luciana un'opera sulla Costituzione tu abbia fatto dei prodotti che naturalmente guardano al pubblico della scuola ma come hai giustamente detto possono essere letti con piacere anche dal pubblico più adulto quindi è una raccomandazione quella appunto di prendere in considerazione la lettura di Nonno Furio il libro è appena stato stampato come detto, ristampato e sarà distribuito a breve nelle principali librerie quindi l'invito proprio è quello di andare a prenderlo, a leggerlo, regalarlo magari perché appunto può essere anche un ottimo regalo per la lettura Silvia ti ringrazio, questa era una presentazione che diciamo non esclude che si possa a breve poi organizzare una presentazione dal vivo ma era importante secondo me dare la comunicazione e darla anche con una modalità che illustrasse per quanto brevemente il contenuto e incuriosisse per cui io ti ringrazio, ti saluto e saluto tutti quanti ci hanno seguito grazie ancora e buonasera grazie a te e grazie a chi ci ascolta